Un imponente carico di farmaci illegali provenienti dall'India, destinati a consumatori marchigiani e del resto d'Italia. È un sequestro senza precedenti, quello effettuato nel porto di Ancona dalla Guardia di Finanza assieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le Fiamme Gialle hanno confiscato un carico di 2 milioni e 100 mila dosi di medicine provenienti dall'India, sprovviste delle certificazioni necessarie. Un milione e 700 mila di questi contenevano principi attivi destinati a curare disfunzioni erettili. Ma non solo, c'erano pure 400 mila ormoni per favorire la gravidanza, spesso usati dai bodybuilders per aumentare la massa muscolare, così come figuravano antiepilettici anche utilizzati come potenziatori degli effetti delle droghe. I medicinali si trovavano su un tir sbarcato da una motonave proveniente da Egumenizza in Grecia. Per eludere i controlli aveva fornito documenti che indicavano pacchi di una società di cosmesi greca risultata ignara del trasporto. Invece all'interno dell'auto articolato c'erano 12 bancali per 7 tonnellate di medicine illegali. Questo sequestro è il più vasto mai registrato in Italia in tema di confisca di medicinali senza autorizzazioni. Il conducente del veicolo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona. Secondo le stime, il carico avrebbe potuto generare profitti nel mercato clandestino per 20 milioni di euro con gravissimi rischi per la salute dei potenziali consumatori.